Noi non ci sentiamo nuovi acquisti, ci sentiamo bene, stiamo bene come gruppo l'uno con l'altro vediamo che stiamo migliorando e questa è la cosa più importante speriamo di continuare a fare da qui fino alla fine del campionato Sì, stiamo bene, abbiamo lavorato tanto e nel ritiro a Catania abbiamo riacquisito la forma che ce la porteremo avanti per tutto il giro di ritorno per cui direi sì che stiamo bene poi sicuramente le partite dopo la sosta sono sempre un po' strane però abbiamo lavorato bene, direi che stiamo molto bene una partita bella però ne mancano ancora altre 20 per cui non penso che sia importantissima sicuramente sarà una bella partita, ci sarà lo stadio pieno è una bella vetrina, però penso che vale sempre tre punti come tutte le altre per cui direi che da vivere nel modo sereno, tranquillo di fare una gran prestazione e alla fine vedere quello che sarà venuto fuori sì, è normale, più che passa il tempo è più che la consapevolezza è aumentata è più che ci vediamo su e questo fa piacere però manca ancora tutto il girone di ritorno dobbiamo continuare a stare tranquilli e a pensare partita dopo partita con il passare delle settimane in B può cambiare di tutto quindi ancora direi che è presto a noi c'è il pensiero di far bene noi, di continuare così di continuare a giocare, a fare belle prestazioni senza far corse su nessuno ancora non abbiamo analizzato granché pian piano, più che ci avviciniamo alla gara più che vedremo le cose grazie 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 grazie